Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo in una mappa horror su minecraft Da quanto che non gioco in una mappa horror su minecraft Penso che non l'ho mai portato questi contenuti sul mio canale, non mi ricordo più Ma comunque oggi, comunque che vado piano E' l'effetto di chi ha creato questa mappa, no? Che l'ho messo io tipo shiftando Perché comunque è urtante sta cosa, però per forza devo tenerla Allora mi ricordo che in qualche cassetto c'era qualche oggetto Eccolo qua, eccolo qui Ecco, e questo qua certe volte bloccava il telefono Ma nei telefoni più vecchi Mettiamolo Mamma, un maiale c'era Comunque Sì, vabbè, io che shifto ancora di più Ok Allora mi ricordo che c'era anche un ascensore qua Questo ascensore ci portava dal mostro Se mi ricordo bene Invece se non mi ricordo bene Non c'era niente No, ma comunque penso che c'era qualche cosa Qua dentro abbiamo due medicine Che l'abbiamo presa dopo 100 anni Poi qua dentro altre due, ce ne facciamo quattro Eh, cinque Non me ne potevo mettere una in più, no? Va bene Ah Ecco qua Mi hanno messo altre due Vabbè, non fa niente Basta che Che poi che se Come funzionano queste Se mi sento male può essere che Proviamo, proviamo Poi qua Non si apre la porta Va bene Dai, tanto Qua Qua Proprio costruito Costruito Benissimo Poi Questo che cos'è? Rom Mio Dio Sì, vabbè Ma perché io shifto poi Che cos'è? Perché C'è una striscia C'è un po' che schifo Apri le porte Apri No, non si aprono le porte Vabbè Eh, anzi Aprono E Ora mi arriva qualcuno qua Ma Chi è quel coso? Ma che schifo Con che vorrei fare queste porte? Come fanno? Che schifo Ma come fanno? Dico Cioè Guarda Cioè Potremmo mettere anche quelle di ferro Tanto sono uguali Però sto dicendo Come fanno a fare A disegnare Fanno tutte le stesse cose Non so Penso che hanno una mod Perché Non lo so E ora che si deve fare? Qua non si apre Ah, qui si apre Ah, beh Bello E ma qua eravamo nella scena di prima Mi pare Ah, non ho capito niente Ciao Scusa per il quadro Lo rimetto Bello Sì Però non è che Possiamo stare con le porte chiuse Ora Fammi entrare Poi si è fatto pienissimo Qua niente Allora ragazzi Dobbiamo controllare In tutte le chest Per trovare Se troviamo una chiave Perché con questa Chiave che dobbiamo trovare Troveremo La chiave E la useremo In una Di queste porte Però Ora Che cavolo Non trovo niente Ah, è vero che Sosturri E Pensavo che c'era qualche chiave Comunque Beh, dai Non fa niente Un altro Poi Speriamoci sempre Che ne troviamo Un altro Tanto Undici medicine Non è che fanno E non fanno male Prendiamocene sempre Ah, è vero che Questa era chiusa Con questo gioco Dobbiamo Ah, qua dentro C'è qualche cosa E questo qua Ecco Finalmente E ci speravo io Va bene Ora Apriamo uno di queste porte Penso Che cos'è Cavolo Io In tutta questa mappa Non sono mai entrato Qua dentro Scopriamo tutti e due Che cosa c'è Qua dentro Se non sono entrato Scopriamo Wow Che cos'è Ah, è un'altra leva Ok, abbiamo un'altra leva La possiamo utilizzare Qua Apri la porta Ok Ora Un'altra leva Ce ne mancavano almeno tre Così almeno siamo più felici Sai Ce ne mancavano altri due Facciamo tre Vabbè Non fa niente Allora Intanto vediamo se si apre sta porta Eh ma Non mi interessa a me sta cosa No vabbè Poi andiamo a vedere dopo Ora mi servono Per Le No Maledetto Può essere Posso rompere il blocco Questo io Possiamo entrare Può essere Sa che Poi mi posso prendere anche la leva No Queste cose non si possono vedere Chiudi 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 Per un atto me la prendo Grazie Eh ora Mi vuoi fregare così Ora No 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 Ora questa leva Ce la terremo Per tutto Per tutto Il Il video Qua dentro Niente Ah in poche parole Hanno fatto queste cose Per Tipo per Fare porte Sapete Sì però anche io Che mi metto Che mi metto Vabbè ormai abbiamo capito che Anche le finestre Vedi Una luce funziona Perché qua non è che paga una bolletta Per fortuna abbiamo una lampadina Che Che è tanto buona però Dai E poi ste macchie di sangue Comunque Ah Ecco qua Però io volevo vedere l'ascensore Perché sopra Ah ma sa che forse Ah ma C'erano due ospedali Ospedale uno Ospedale due Ho fatto quello uno Perché mi sembrava C'era l'ascensore Era più divertente Ma cavolo Ma anche io Pensavo che era questo Vabbè ragazzi Niente scensore Però Andiamo a vedere Vediamo Perché ci ho giocato anche io A questo gioco A questa mappa Ma chi è un quadro nuovo L'hanno L'ha fatto il creatore Che cos'è Vabbè Vabbè Voglio vedere Mamma Queste medicine Però Poi Che so Saliamo No Dai Dammi Dammi Ecco qua Ora prendo Caccio Dalla mano Perché a quanto pare Non è che In questo ospedale Aiutano Uccidono Ma comunque E vediamo Un'altra leva Dov'è la leva Sento un Un Come si chiama questo Perché siccome è da tanto Che non entro su minecraft Non mi ricordo più Come si chiama Mannaia Non abbiamo preso la leva Io non ho preso la leva Mannaia Che l'ho preso Comunque L'ho ucciso Il Il villager Ecco No 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 aiuto Sono preso tutto Ok Prendi Ciao E arrivederci Io me ne salgo sopra Perché qua non c'è niente Comunque È che c'è qualche cosa interessante Non ho niente Perché che mincavolo Quando Fanno ste mappe Che camminano Piano 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 Mamma che schifo però C'è lo so Però Vabbè ormai abbiamo capito Eppure se Eppure il coso se No ma mai abbiamo capito ormai Che Che si va piano Piano di sangue Teste In poche parole È così la situazione Situazione Comunque qua che cosa c'è Ma Ma poi deve apparire Fammi capire Scusa Che Che vuoi Vedo un villaggio Mi sono spaventato Anche io Caccia caccia Voglio vedere Ah Ma comunque Finitela di mandarmi Ste cose Il creatore Sto dicendo No a voi Non me lo da Eh forse ho esaurito Lo spazio Forse più di 19 Non si poteva Vai Altri 19 stack Perché siccome Siccome qua Nessuno mi uccide E che li voglio ste cose Io se non mi uccide Nessuno Eh Vabbè Può essere che Un computer Wow Marca Asus Che Che Non lo sapevo È troppo bella Sta cosa Leva Grazie Questo Sì Bello Delle pozioni Ma intanto Non c'è niente Vabbè Eh Questo Vuoi dire che non c'è niente Però Non devono fare così Perché Una persona ci spera Non sa che poi Non c'è niente Ma comunque Eh siamo entrati qua dentro Auguri Ciao Ok Ora Questi rom 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 Non ci interessano Perché Eh sì Aspetta Aspetta C'è in poche parole Così è finita la mappa Ah no È finita Aspetta Ah ma alcune Questo E poi No Questo Ok E poi Questo Apposto Ma è finita la mappa Apposto Sì vabbè Fammi piazzare Aspetta 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 Bello Mamma Che buio Mettiamoci un'altra volta Che ho paura Oh Non me lo fa più mettere Non me lo fa più mettere Ok Metti Metti Ok Vabbè ragazzi Ecco è finito tutto C'è di già Cioè Sai che faccio io Ora No Ora sono furbo Appena finisco Questo Appena Carico questo video Ne registro Un altro Con Hospital 2 Voglio vedere Se C'è l'ascensore Va bene Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Tra Un po' Dopo che sto Ho caricato questo video Dovete aspettare Il secondo video Dell'ospedale 2 E vediamo se c'è l'ascensore Vabbè ragazzi Ciao Ciao